buongiorno avete voglia di dolce ma non avete niente in casa allora una un rotolo di pasta frolla rotondo della cannella dello zucchero e avete il dolce adesso piano piano arrotolo la sfoglia la pasta frolla anzi ho arrotolato tutta la pasta frolla ho fatto una specie di salamino vedete un rotolo ho fatto adesso vado a tagliare dei pezzettini vedete ho ottenuto delle specie di roselline adesso sulla superficie sulla parte superiore vado a mettere altra cannella e altro zucchero semolato ecco qua li ho messi su una teglia queste roselline le ho messe su una teglia vanno in forno 10 minuti a 200 gradi i biscottini rustici alla cannella sono pronti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti